Un evento unico nel suo genere, unico per la formula e unico per la location. Parliamo di Sporty Meeting 2021, ma prima iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella. Dopo un anno di stop forzato, torna a Sporty Meeting, l'appuntamento più atteso dagli appassionati delle Harley Davidson Sportster. In tantissimi, il 10 luglio scorso, hanno raggiunto Grazzano Visconti, percorso il red carpet e posato per la tradizionale fotobanner. È uno spettacolo, ammirare il suggestivo borgo medievale alle porte di Piacenza, letteralmente invaso da small block. Tutti uguali sulla carta, ma sempre uno diverso dall'altro. Tante le aziende, i brand a supporto, numerosi ma selezionati gli stand presenti. Fitta rappresentanza di preparatori, concessionari ufficiali e collezionisti, ma sono le moto dei privati le vere protagoniste di questo evento. Il Circle, al centro della Corte Vecchia, espone preparazioni, ma anche conservati e rarità. Altissima la qualità dei mezzi presenti. Sul palco, durante la giornata, ci sono alternate presentazioni, premiazioni, contest e partner award e non è mancato qualche colpo di scena. Nel ruolo di main partner, Harley Davidson Italia, Parts Europe, Andreani Group e Motorbike Expo, mentre in rappresentanza del mondo dei pneumatici, Mezzler. Volti noti del mondo custom, riviste specializzate, youtuber e fotografi, hanno immortalato una giornata che molti hanno definito indimenticabile. Noi continuiamo e continueremo anche con voi per i prossimi anni, Harley Davidson will never die. Sporti Meeting 2021 è stato un vero successo e conferma di essere un evento unico nel suo genere. Sporti Meeting 2021 è stato un'azienda per il nostro canale, a tutti i nostri amici, a tutti i nostri amici.